Per fare la pasta bisogna ricavare la semola dal grano. Il percorso del grano all'interno del mulino è tortuoso e frenetico. Il grano deve essere macinato, è così che si ottiene la semola. Le setacciatrici, enormi passini, separano la materia più grossa da quella più fine. Ad ogni passaggio il grano torna a correre per essere macinato ulteriormente, passando ben 28 livelli di macinazione. La semola è il risultato di questo processo. Ormai separata dalla crusca, la semola è pronta a diventare pasta.